Putin si scaglia contro l'Occidente che cancella la cultura russa. Dice che puzza come la Germania di Isler. Il capo di Stato ha fatto notare che cose del genere erano addirittura impossibili da immaginare in Russia. Noro Ugariova, 25 marzo 2022. Il presidente russo Vladimir Putin ha delineato un paragone tra l'attuale campagna contro la cultura russa in Occidente e ciò che è accaduto nella Germania nazista sotto Hitler. La famigerata cultura del boicottaggio si è trasformata nella cancellazione della cultura. Nomi come Tchaikovsky, Shostakovich, Rachmaninov vengono rimossi dai cartelloni e gli scrittori russi e i loro libri vengono banditi, ha detto Venerdì. L'ultima volta che è successa una campagna così ampia contro la letteratura indesiderata è stata in Germania, da parte di nazisti quasi 90 anni fa, ha osservato. Il presidente ha ricordato i cinegiornali di quel periodo dove i libri venivano gettati nei falò accesi nelle piazze centrali delle città tedesche. È impossibile anche solo immaginare cose del genere nel nostro paese. Siamo immuni da queste cose grazie alla nostra cultura. È inseparabile nella nostra patria, quella rossa, dove non c'è posto per l'intolleranza etnica, dove persone di decine di nazionalità diverse hanno vissuto, lavorato e allevato i loro figli fianco a fianco, dove la diversità culturale è l'orgoglio della nostra società, la forza e il vantaggio del nostro Stato, ha sottolineato. Commentando il fenomeno della cultura del boicottaggio, ha osservato, oggi cercano di cancellare un intero paese secolare, il nostro popolo. Voglio dire la crescente discriminazione di tutto ciò che è legato alla Russia riguardo a questa tendenza, che si sta sviluppando in diverse nazioni occidentali con la totale connivenza delle élite dominanti, se non addirittura incoraggiata da loro, ha detto.